Siamo al Museo della Battaglia con il professor Umberto Curi, professore merito di storia della filosofia dell'Università di Padova e attore di diverse pubblicazioni, tra cui via di qua imparare a morire, lo straniero, pensare alla guerra, l'Europa al destino politica e ultimo, quello per cui siamo qui a fare la presentazione del libro, I figli di Ares, guerra infinita e terrorismo, Castelvecchi editore. Qui a Vittorio Veneto il gruppo studi storici sociali e storia in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il Museo della Battaglia ha incardinato un laboratorio di studio e aggiornamento sulla guerra. La discussione pubblica sui volumi, appunto, quello del professor Curi oggi, quello di Senza Guerra edizione Il Molino con scritti di Ernesto Galli della Loggia, Massimo Cacciari e Lucio Caracciolo, e Grande Guerra, le radici e gli sconfitti europei cattolici operatori di pace edizione Il Cerchio con diversi autori, tra cui Agnoli, che è stato qui la settimana scorsa. Ritiene importante un approfondimento sulla guerra in questo periodo? Ma sì, non solo perché, come malauguratamente possiamo constatare quasi ogni giorno, focolai di guerra diffusi non solo in Medio Oriente e in Africa, ma almeno potenzialmente in alcune zone dell'Europa sono numerosi e ricorrenti. Ma poi per una ragione ancora più importante, perché non c'è dubbio che il ventesimo secolo è stato segnato da due grandi guerre combattute e da una guerra, quella che si è chiamata più o meno appropriatamente guerra fredda, che non ha avuto combattimenti clamorosi in campo aperto, ma che certamente ha diviso e contrapposto paesi, culture, forme di civiltà, modelli economici. E allora tentare di chiarire lo statuto della guerra e il rapporto tra guerra e politica, io credo sia un modo per capire meglio la realtà nella quale oggi ci muoviamo e anche per intravedere quali prospettive ci attendono nei prossimi anni. Ecco, entriamo nel suo ultimo libro, I figli di Ares, la guerra infinita e il terrorismo, questo è il vecchio editore. Diciamo, uno dei punti di partenza è la distribuzione in uguale delle risorse del pianeta, l'emigrazione e la moltiplicazione delle attività belliche sono la base attraverso cui comprendere l'era postmoderna, è da lì che parte, mi parla il suo libro. Sì, io cerco di suggerire una chiave di metodo anzitutto per quanto riguarda la comprensione della situazione presente e cioè tenere presente dal punto di vista dell'analisi una connessione che a me pare essere innegabile, è indiscutibile tra quelli che sono fenomeni abitualmente invece analizzati isolatamente, separatamente l'uno dall'altro. E cioè, anzitutto, una distribuzione delle ricchezze fortemente asimmetrica, tale per cui, come è noto, quattro quinti dell'umanità, e cioè poco più di 5 miliardi e mezzo di persone, dispongono di un quinto delle risorse, mentre un quinto dell'umanità ha a sua disposizione quattro quinti delle risorse, quindi vi è una asimmetrica distribuzione di risorse che è di per sé un fattore di squilibrio e di destabilizzazione. Bisogna, io credo, ricollegare questo aspetto, questo fenomeno, che è certamente l'aspetto macroscopico per quanto riguarda un'analisi globale della situazione del pianeta, bisogna collegarlo da un lato con questo fenomeno che sta assumendo portata planetaria, cioè il fenomeno del terrorismo, e dall'altro io credo che sia comprensibile che di fronte a un mondo così fortemente squilibrato sotto il profilo economico si debba assistere a fenomeni migratori di proporzioni imponenti come quelli di cui l'Europa è appunto teatro nel corso degli ultimi decenni. Ecco, è proprio la trasformazione morfologica della guerra dagli inizi del Novecento ai giorni nostri. Ma sì, per dirla molto in sintesi, le guerre dal punto di vista storico nascono come combattimenti in campo aperto fra eserciti l'un l'altro ostili, contrapposti, le guerre erano costituite prevalentemente da battaglie, le battaglie si svolgevano in un arco temporale definito dall'alba al tramonto e coinvolgevano pressoché esclusivamente quelli che possiamo considerare i professionisti della guerra, cioè i militari e gli eserciti. Le popolazioni civili erano coinvolte soltanto se si trovavano situazioni transitorie di passaggio di eserciti, ma in quanto popolazioni civili erano tenute a riparo dallo svolgimento dei combattimenti. Nel Novecento questa situazione cambia radicalmente fino a capovolgersi. parlavamo di questo contesto nel quale stiamo ragionando ora, cioè il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, che è una delle testimonianze più significative e anche più suggestive della Prima Guerra Mondiale, nella quale un terzo dei caduti, dei molti milioni di caduti, è rappresentato da popolazione civile. Ma già con la Seconda Guerra Mondiale il rapporto tra militari e civili caduti va in parità e se facciamo riferimento alla Seconda Guerra del Golfo, che vede contrapposto gli Stati Uniti e i suoi alleati all'Iraq, dobbiamo constatare che qui a fronte di 44.000 vittime militari vi sono dieci volte di più quasi 500.000 vittime civili. Come si vede, la guerra sempre meno coinvolge i professionisti della guerra, anzi è diventato, lo sappiamo, uno degli slogan più diffusi e ripetuti per i quali la guerra non si combatte stivali sul terreno, cioè andando nei luoghi di crisi, ma i militari combattono la guerra molto spesso giovandosi di strumenti telematici e intervenendo a migliaia di chilometri di distanza. Chi invece resta esposto all'impatto degli avvenimenti bellici sono i cittadini inermi, la popolazione comune, basti pensare a quello che sta succedendo nel quadrante medio orientale, in Siria, in Iraq, nella città di Mosul, con decine di migliaia di civili e anche di donne e bambini che sono coinvolti in questo sanguinosissimo conflitto. Ecco, proprio il passaggio dal boots on the ground ai droni ha comportato una risposta da parte del terrorismo con la guerra asimmetrica che il terrorismo ha attuato. Ma questo è uno dei punti, io credo, più significativi della situazione odierna. Da un lato, per intendersi, nel mondo occidentale le trasformazioni nella strumentazione tecnica con cui vengono condotti i combattimenti e più in generale un cambiamento della mentalità, direi, della cultura bellica porta i militari a essere sempre meno presenti sul teatro effettivo degli avvenimenti bellici e ad agire e a intervenire mediante strumenti a distanza. Il compimento di questo processo può essere considerato il drone che, come noto, è l'aereo telecomandato che non prevede neppure la presenza di un pilota a bordo dell'aereo. In qualche modo, a fronteggiare questa evoluzione tecnologica spinta, esasperata vi è questa forma di nuova di terrorismo in cui l'arma è costituita dal corpo di questi militanti che si fanno esplodere e che quindi trasformano il loro stesso corpo in un'arma micidiale. Da questo punto di vista, sì, emergono, io credo, differenze, tensioni irriducibili tra due modelli di civiltà e tra due modi di concepire la vita. Da un lato questa idea per cui i bravi ragazzi americani, come più volte hanno ripetuto i presidenti statunitensi, vanno tutelati, protetti, bisogna fare di tutto perché essi non corrano rischi e dall'altra parte i loro coetanei di questa zona del pianeta incandescente che è il Medio Oriente che non esitano a trasformare il loro corpo in un'arma micidiale. Sì, la religione c'entra poco, i terroristi non sono religiosi, lo spiegava molto bene, l'ha spiegato molto bene ad esempio Stefano Lievi della sua stessa università. Dopo il 1989 il mondo non è più giusto, non è più sicuro, non è più pacifico. È stata una bella illusione che abbiamo coltivato che la fine del sistema politico-economico del cosiddetto socialismo realizzato, il collasso dei paesi comunisti portasse con sé un lungo periodo di pace, di convivenza, di sviluppo, di progresso per quanto riguarda tutto il paese e più in generale per quanto riguarda tutto il pianeta. Sappiamo che non è andata così, anzi, là dove da molti decenni era proseguita una situazione di sostanziale stabilità e di pace, in alcune zone dell'Europa, pensiamo ad esempio ai Balcani, si sono riaccesi focolai di guerra che tra l'altro ha assunto caratteristiche particolarmente spietate, atroci, crudeli, con fenomeni anche relativamente nuovi come erano queste nuove forme di pulizia etnica e di genocidio. È stata un'illusione dalla quale abbiamo dovuto bruscamente svegliarci, dobbiamo comprendere come lo stesso sistema democratico che abbiamo ritenuto troppo frettolosamente aver vinto il confronto con i modelli dell'economia pianificata di ispirazione sovietica, lo stesso sistema democratico ha bisogno di riforme radicali per poter reggere le nuove sfide che si sono profilate con l'arrivo del terzo millennio. Tant'è che lei nel suo libro, fa parte proprio del titolo, parla di guerra infinita. Vuole spiegarci cos'è questa guerra infinita dopo l'89? Ma è un'espressione che non ho coniato io. Se uno va a vedere i documenti, così come ho fatto riportandoli analiticamente in questo mio libro, i documenti dell'amministrazione americana a cavallo dell'11 settembre, e quindi già prima dell'attacco alle Twin Towers scopre che questo è lo slogan, è la formula con cui l'amministrazione americana intende affrontare le situazioni di crisi e di instabilità nel pianeta. Infinite war, guerra infinita, o per usare un'altra espressione sempre impiegata dall'amministrazione americana, Enduring Freedom, libertà permanente, dove viene a mancare la caratteristica fondamentale storicamente avuta dalla guerra, quella di essere un episodio circoscritto. Tanto è vero che noi di solito usiamo l'anno di inizio e l'anno di fine proprio per indicare la guerra. Qui nel contesto del Museo di Vittorio, per esempio, la guerra del 15-18. A nessuno verrebbe in mente di pensare che una guerra possa essere infinita, proprio perché la guerra si combatte per poter raggiungere la pace e quindi in un periodo di tempo circoscritto, limitato. è uno degli aspetti nuovi, assunti dalla guerra, con i quali dobbiamo misurarci anche dal punto di vista culturale. Ecco, si vi pace, parabellum, dicevano i latini. Quali sono invece le sue proposte per la pace? Ma più che le mie proposte personali, nel libro esamino alcune ipotesi di pace che sono state formulate da alcuni esponenti significativi della cultura occidentale fra otto e novecento. E anzitutto mi riferisco a quello straordinario quanto frainteso opuscolo kantiano, siamo alla fine del settecento, intitolato Per la pace perpetua, nel quale Kant delinea i caratteri generali di quello che potrebbe essere un nuovo ordine giuridico internazionale che garantisca la permanenza della pace. E qui segnalo un punto tra i molti che potrebbero essere sottolineati e cioè secondo Kant per la realizzazione di questo nuovo ordine giuridico internazionale è indispensabile conferire vigore di legge all'ospitalità nei confronti dello straniero. Non ci può essere situazione di pace se non all'interno di una visione cosmopolitica nella quale vengono abbattuti i residui di frontiere e confini che ancora si vorrebbero erigere perfino all'interno del territorio europeo. Ho analizzato anche lo scambio di lettere che vi è stato negli anni 30 del novecento tra Einstein e Freud in cui si è cercato di individuare una prospettiva di pace che scaturisse da un'analisi delle condizioni stesse della vita psichica individuale e poi ho completato questa ricognizione di ipotesi di pace con l'iniziativa assunta da Giovanni Paolo II all'inizio della seconda guerra del Golfo quando Papa Giovanni Paolo II ha lanciato l'iniziativa del digiuno. Molti hanno ritenuto improprio, poco significativo l'atteggiamento pontificio, non si è colta la connessione fra l'imminente esplosione della guerra del Golfo e questa proposta del digiuno io credo che possa essere interpretata come ho suggerito nel libro, come un'iniziativa riassumibile in questo slogan. Se l'Occidente vuole la pace deve digiunare. Se vogliamo la pace dobbiamo pensare ad una riorganizzazione dei modelli di vita occidentali dalla quale vengono eliminati gli sprechi e in cui si possa pensare almeno in tendenza di riequilibrare la distribuzione delle risorse a livello planetario. A conclusione di questo ciclo di conferenze dedicate al profondimento sulla guerra all'inizio nella presentazione del libro di cui anche il coautore Nesto Galli della Loggia lui parla della storia europea come caratterizzata dalla guerra e dalla capacità degli stati europei di imporre se stessi in altre zone del pianeta. Successivamente Mario Agnoli nella conferenza successiva ha dato un'interpretazione diversa negando che la guerra sia un elemento costitutivo dell'identità europea e attribuendo alcune colpe al ruolo della rivoluzione francese che ha esteso il conflitto alle masse. Lei su questo punto cosa ne pensa? Ma che le radici culturali e politiche dell'Europa affondino nella guerra e per dirla anche più esplicitamente in particolare nella guerra di Troia questo mi pare indiscutibile. Noi abbiamo qui due fonti antiche diverse tra di loro che tuttavia danno un'indicazione convergente. Da un lato l'Iliade, questo grande poema fondativo della nostra cultura che non dimentichiamolo è la descrizione di una grande guerra di cui certo Omero dice polemos cacos, la guerra è un male ma lo stesso svolgimento del poema omerico sta a mostrare quanto importante, decisiva sia la guerra di Troia per segnare l'origine dell'Europa, la distinzione tra Europa e Asia e l'avvio di quella lunga storia, quasi tre millenni che è la storia della tradizione culturale dell'Occidente. C'è anche un'altra fonte, una fonte di carattere mitologico come è noto Europa sarebbe questa giovane fanciulla che gioca sulla spiaggia al di là del Mediterraneo se ne invaghisce Zeus che per poterla possedere si imbestia assume la forma di un toro bianchissimo sul quale sale Europa e allora questo toro spicca un volo attraversa il Mediterraneo e si insedia al di qua del Mediterraneo nella regione che da quel momento sarà chiamata appunto Europa e in questa fonte mitologica vediamo che l'origine di Europa è uno stupro, un atto di violenza connesso con un atto di seduzione e di inganno da questo punto di vista noi potremmo anche riconoscere che le origini, le matrici culturali dell'Europa sono strettamente connesse anche con la violenza ma allora tanto più si deve, come dire, lavorare per andare oltre questo orizzonte l'orizzonte che finora ha descritto e caratterizzato in maniera quasi esauriente l'identità di Europa e che ora invece va fondata non più sulla guerra ma su una visione di pace inseparabile dal raggiungimento di una giustizia sociale effettiva In tempi di Grexit l'ombra di Atene e Sparta si staglia ancora molto presente nel nostro continente dove la guerra si fa più con i soldi forse che con i cannoni Sì, non dobbiamo dimenticare peraltro che la crisi dell'idea di Europa di cui la secessione, chiamiamola così, dell'Inghilterra è una testimonianza in fondo è una crisi che poteva essere prevista e non è detto che non sia salutare forse questa crisi pone le premesse per una accezione diversa di Europa per un modo diverso di concepirla e costruirla e quindi potrebbe anche essere la premessa per la realizzazione di un'idea di Europa affrancata dai suoi miti fondativi che la ricongiungono inevitabilmente con la guerra e la violenza Grazie 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 a tutti.